Presidente della World Western Association lui disse io ho 96 anni, che vuoi da me? e io gli ho detto non c'è da fare niente ci hai dato le benedizioni per organizzarci e per eseguire quello che Shira Jeva Goswami ci ha detto di eseguire e sta chiedendo alla Devota Prabhupada Dasi di fare un'intervista a Mahavidya Prabhu in modo da poterla mettere nelle notizie come reportage di quello che è successo oggi e questa intervista per favore dovrebbe essere in inglese perché metterla, inserirla con altri linguaggi potrebbe essere impegnativo io voglio presentarvi qualcosa di molto interessante potremmo mostrare la foto dove sto stando con Amit Goswami apremmo questo questo? sì Amit Goswami è un fisico quantico quindi ho parlato con lui ho parlato con gli oida terapia per molti anni e ha parlato, Guru Maharaj ha parlato con questo Goswami, con Amit Goswami per tanti anni a proposito dell'oida terapia now he's making a type of, it's called the quantum activist training meetings allora questo Goswami sta facendo qualcosa che potrebbe essere definito incontri degli attivisti quantici sì e lui gira tutto il mondo e fa un sacco di soldi dando questi corsi e è esattamente lo stesso principio che stiamo promuovendo che il principio è che bisogna diventare un attivista trascendentale c'è solo una differenza l'unica differenza che Amit Goswami appartiene alla scuola dell'Advaita Vada mentre l'attivismo che noi stiamo promuovendo è totalmente non sectario e apre le porte agli atei apre le porte agli atei perché ritornino a comprendere la fede questa è l'oida terapia e siamo molto, molto grafici oggi per tutti i lavoratori, tutti i lavori che hanno partecipato che abbiamo l'oida terapia e oggi con grande gratitudine per tutti quelli che hanno partecipato adesso è disponibile il libro dell'audioterapia in italiano un applauso un applauso grazie 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 e a tutti voi il nostro fratello Premavani ha fatto la produzione e hanno contribuito alla produzione anche il nostro Yatra di Terni. Per la maggior parte dei predicatori il soggetto è un po' noioso perché l'unico soggetto, perché l'unico argomento di questo libro è smetti di essere ateo e trova i segreti che tu fino ad ora ignorai. Perché quando noi facciamo predica all'interno del Tempio noi diciamo alla gente molto di più. Questo è il sito web della Oida Therapy che si sta in procedura di sviluppo molto avanzata, ma abbiamo anche qualcosa come più di una trentina di video che in questo momento sono sotto elaborazione, abbiamo quattro libri in più da pubblicare e cominciare a stabilire i corsi. I corsi della terapia Oida sono molto interessanti. In effetti uno ottiene il beneficio della terapia Oida studiandola. e quindi questo qui è un omaggio ai nostri Acharya che sempre, costantemente cercano di portare le persone verso il teismo. Perché quando sei un non sectario quando non sei sectario devi accettare il fatto che Dio si manifesta in diversi modi. E un modo con il quale Lui si manifesta è come il sole, la luna e la terra. Si chiama la manifestazione cosmica che è chiamata Virata Rupa Attraverso il mio apprezzamento alla Virata Rupa io ho cominciato un altro progetto di predica che anche questo è offerto all'Associazione Mondiale Vaishnava. E' ancora più indiretto. Si chiama il Patto Mondiale Croscente. E quindi in questo sito noi promuoviamo l'attivismo per Madre Terra come un'attività spirituale. Ci sono molte organizzazioni di questo tipo e sono molte che appartengono al Patto Mondiale Croscente e sono grandissime come Greenpeace. Sorprendentemente Molte di queste organizzazioni sono piuttosto caratterizzate dall'asismo. Si. E quindi i molti importanti sono le questioni sugli animali. E in questo modo non risolvono nessun problema. Quindi la visione di Prabhupada nello Shrima Bhagavatam Lui stesso ha spiegato. La sua spiegazione era autosufficiente. Riguardava l'autosufficienza. E Prabhupada ha fatto tanti sforzi per convincere le persone che in realtà Madre Terra è sacra. Ma su Facebook poi ci sono i link del digitalismo. quindi il Patto Mondiale Croscente ha avuto un inizio un inizio un inizio meraviglioso perché perché si unisce ai gruppi nativi del Sud America. Questi gruppi nativi del Sud America loro dichiarano che solo la soluzione spirituale può cambiare la situazione dell'Uno. Allora tutti questi gruppi dichiarano che per cambiare il destino della Terra l'unica cosa è una soluzione di tipo spirituale. quindi io sono andato al Kumbha Mela quindi io sono andato al Kumbha Mela e sono andato come rappresentante dell'Associazione Mondiale Vaisnava e del Patto Mondiale Croscente e ho invitato tutti gli yogi del Kumbha Mela per unirsi al Kumbha Mela verde e per unirsi con i nativi a meno che non sia gente che vuole fare qualche fregatore che vuole prendere vantaggio dal Madre Terra per il beneficio di pochissime persone. In ogni caso anche questo non è una cosa che riguarda direttamente la World Vaisnava Association ma in ogni caso è una cosa molto attiva un'iniziativa molto attiva come per esempio qui c'è un discorso di Vandana Shiva e noi lavoriamo molto vicini con lei con Vandana Shiva e con le iniziative del cittadino del mondo e l'iniziativa ha a che vedere col fatto di rendere registrati legalmente i diritti di Madre Terra. Questa pagina rappresenta dei meeting regolari che sono così strani in modo positivo, così sorprendenti che il Guru Maharaj non ha mai visto degli incontri del genere prima. Perché la gente vi viene indirizzata molto sinceramente si indirizza ad essi molto sinceramente e vuole essere parte della soluzione. Quindi le attività artistiche dei Chaski Fest e anche la festa Eco Yoga sono connesse con questa iniziativa. Ieri per esempio abbiamo avuto un festival Eco Yoga a Quito in Ecuador e sono venuti tanti musicisti e hanno partecipato 700 persone. E' molto interessante perché è un programma Shakti. Le bandiere sono portate avanti da quelle signore Arawakos. Quindi questa è la chiave. Noi stiamo cercando l'antica saggezza che può avere nomi anche molto differenti. come la legge dell'essere. Che significa veda. C'è solo una verità. Ci sono principi nascosti. Quelli lì sono di un solo tipo. C'è un solo principio dietro tutto. E' ciò che loro adorano. In questo modo noi abbiamo connesso il Kumbamela e i nativi del Sud America. E stiamo facendo parte di loro università. La università a cielo aperto chiamata chiamata l'università dell'antica saggezza. Dice Sam questi sono dei piccoli sforzi per far piacere a Prabhupada. Ma l'associazione mondiale Vaishnava è molto importante. Tutte le cose che sto dicendo qui. Se io dico E se io dico questo viene da Paramatreti Maraci. Lui qui ha un po' di discepoli che cercano di fare queste cose. Dice la gente mi rida è facile. Dice ma che è? Il fatto che viene da? Ah ecco ho capito. Prima la gente si mette a ridere. Invece il fatto che venga dagli antichi saggi dal passato e dai nativi e che venga anche dai nostri yogi del Kumbamela più più tutti gli acharya del movimento di Chetaniamaprobu e tutte queste personalità, tutte queste iniziative messe insieme per combinare qualcosa. Questo è un tipo di fondamento che non abbiamo mai avuto prima. e non ci sono trucchi è tutto sincero è quello che vogliamo e i nativi sono così felici che non hanno mai collaborato con le persone esterne loro grazie che non hanno mai avuto a che vedere con i filosofi ah grazie 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 sì qualche tempo qua c'è stato un capo direi insomma tribale che ha mandato una lettera al Presidente il mondo e tutti hanno letto questa lettera ma hanno cominciato a ad avere a che fare a gestire a rapportarsi in modo differente a questi nativi ma per niente anche adesso anche adesso gli eserciti dei popoli colonialisti si rivolgono contro i nativi se questi detengono in qualche modo delle cose che possono portare ricchezza questo è un argomento a parte ma è un fatto che noi non possiamo dimenticare quindi ad ogni costo quindi l'olocausto è successo molto tempo fa Hitler ha cominciato con le persone di religione ebraica quindi l'olocausto è l'orrore dell'uomo bianco che vuol rubare tutto quindi in questi tempi abbiamo una scelta differente io vi dico di queste cose io non so cosa poi ci farete voi e se avete del tempo per fare questo se voi lo considerate di valore che vi faccia comodo per la vostra predica ma ve lo offro ve lo offro ve lo offro grazie e ve lo offro come un servizio all'associazione mondiale di Vaishnava e poi se volete ancora più grazie se volete entrare ancora più dentro voi potete trovare qualcosa di molto sorprendente queste cose appaiono molto belle ma non sono un'organizzazione siete voi l'organizzazione voi potete organizzare in Bologna voi potete organizzare a Bologna e portare la mente della gente a capire tu puoi portare queste cose a Laverna tu puoi portare queste cose nelle scuole e nelle università io posso portare queste cose nella musica come lui ha portato queste iniziative a Monopoli in questo momento c'è un grande cosiddetto Chaski Fest che sta girando per l'Italia che sta accadendo in Italia e noi che giorno? giovedì giovedì noi suoneremo al Chaski Fest a Roma e questo sarà in realtà un festival con uno dei più grandi musicisti del Pacto del mondo e questo festival sarà insieme a uno dei più grandi musicisti del Patto Mondiale Cosciente e questo festival avrà a che vedere con il fiume dell'Amazzonia il rio dell'Amazzonia il rio dell'Amazzonia come rappresentante di tutti gli altri fiumi del mondo i fiumi sacri del mondo e saranno fatti dei cd specialmente in particolare per questa iniziativa quindi quindi Guru Maharaj dice sono molto serio su questa cosa non c'è un'organizzazione voi dovete essere l'organizzazione dovete cominciare a usare il vostro cervello e il vostro cuore e le vostre connessioni e è questo che è in realtà la World West Nova Association e quella World West Nova Association ha a che vedere con no, è il Signore Chaitanya che dà un aiuto sostanziale ad un mondo che si sta sommergendo nell'oscurità e la gente qualcuno potrebbe dire ma perché non lo fate da soli voi Hare Krishna ma non c'è paura sì anche io sono contro il colonialismo io non credo, insomma, non ce la faccio a sopportare queste grandi compagnie di imbroglioni che rubano l'acqua e cose del genere ma non potete trascurare gli anziani, gli antenati, i brahmana, gli sciamani, i sinceri sciamani potete anche mostrarmi la Università sabidudia-ancestral.org iniziamo a parlare ora per la Smanach ci farà vedere le università io devo ammettere che questi sono inizi molto umili io devo ammettere che sono inizi molto umili però ho imparato da Shila Prabhupada che se all'inizio non fai un piccolo passo non avrai nessun passo meglio farne uno che niente meglio farne uno che niente qui ci sono tutte le montagne combinate abbiamo l'Himalaya, la Corina Egovarzana, la Sierra Nevada eccetera vai un po' giù qui abbiamo tutte le tribù del mondo che vogliono proteggere la madre Terra e quindi qui ci sono riunite tutte le tribù della Terra che vogliono proteggere la madre Terra questo è il simbolo di questo tutte le tribù unite del mondo e questo è il simbolo tutte le tribù unite del mondo e poi ci sono tutti i differenti argomenti che sono insegnati nelle università o le scienze di risanamento come risanare madre Terra come guarire gli umani come riunire la relazione tra le persone e ciò che si sono come come relazionare le persone con il loro con la loro antica saggezza sono già le corse che siamo attivati e poi c'è arte E quindi ci sono sia i corsi che stanno partendo, sia un'invocazione a tutti gli artisti che potrebbero fare arte sacra. E se ho ben capito ora ci sarà, per portare avanti, per far partire in maniera importante questo progetto, una maratona, cioè un periodo intenso di lavoro di sei mesi in India. Dice è buffo che tutto ciò sia in spagnolo. Ma abbiamo anche delle traduzioni in inglese. Però ci vuole più gente che utilizzi l'energia e faccia cose del genere. Perché è un'università bella, perché è una bella università alla terra. Ma nel borsalino non abbiamo nemmeno mille euro. Ma abbiamo già i più grandi insegnanti. Che sono dedicati. E i nostri insegnanti possono insegnare comunque, anche qui a Gianni Kanta. E tutti gli artisti coscienti, come te, sono ambasciatori onorari dell'antica saggezza. E allo stesso modo sono nella categoria degli insegnanti che possono portare avanti dei corsi. Magari dopo aver ascoltato tutte queste cose, voi cominciate a realizzare che dovete produrre cose migliori. Ma abbiamo anche delle gente brava, molto buona gente. Abbiamo le risorse che hanno anche a vedere per il vegetarienese. Abbiamo la investigazione sulla responsabilità e sul karma. E abbiamo anche il Varnashrama Dharma analizzato. E la cosa più importante è che... Tutti questi progetti sono progetti non violenti. Non solo è contro la violenza fisica, ma anche contro la violenza verba. E non sono solo contrari alla violenza fisica, ma anche a quella verbale. È molto particolare. E mette insieme cose che esistono, ma sono l'una con l'altra fuori della vista. Quindi il più andate, più approfondite in tutto ciò, Voi potete capire che si tratta del piano del Signore Cetanio. Anche il Signore Cetanio, anche se non lo vedete, se non lo vedete raffigurato è comunque numero uno. Come quando voi non vedete il Signore Cetanio, l'affigurato nel posto centrale, quando i Sadhu indiani si incontrano. Per esempio, quando si parla di altri Sampradaya. E sappiamo ancora che il Signore Cetanio e Shri La Prabhupada sono del massimo dell'importanza per tutto ciò. Ma dobbiamo servire la verità insieme. Questo è un passo avanti essenziale. E è il mio grande onore che mi ha permesso di presentarvi siccome Prabhupada ci ha detto che dobbiamo essere dei rivoluzionari. Dobbiamo essere rivoluzionari del Sanketan. Dice io di questa cosa ne posso parlare all'infinito. E farvi vedere tante, tante, tante altre cose. Ma non ci abbiamo tempo. Perché vogliamo ascoltare da voi e anche avere l'infinito. Nuove idee, domande e rispondi. E noi iniziamo dal Sanketan. E quindi... Quindi vorremmo sentire... qualcosa che è importante per contribuire. Porremmo mi ha dato un pezzo di paper che io lo incorporare. Quindi Guru Maharaj e Peggy vorrebbero parlare prima i Sani Madri che parlassero tutti. E chiunque voglia fare qualche intervento è pregato di scriverlo in un pezzetto di fatto. Una cosa di più, su questo sito trovate più di 250 documentari essenziali su quello che sta succedendo in questo mondo e su quello che dovremmo essere molto attivati. In questo sito ci sono circa 250 documenti filmati nei quali si può capire cosa sta succedendo in questo mondo.